Estra ha completato un intervento molto importante per 725.000 euro nell'area Pratacci, nell'area di San Zeno e in via Calamandrei per garantire con 40 km di fibra ottica ben 1.900 unità immobiliari business. È grazie a questo importante investimento che queste zone produttive della città di Arezzo colmano un gap che non era più sostenibile con 40 km di cavi di fibra ottica, 27 km di infrastrutture a basso impatto ambientale e la copertura in fibra ottica di quasi 1.900 unità immobiliari business. Estracom ha dunque realizzato le reti in tecnologia FTTH, acronimo di Fiber to the Home, ovvero fibra fino a casa. Una fibra che garantisce una banda ultralarga che consentirà l'utilizzo delle migliori tecnologie e di sistemi di teletrasmissione che oggi si stanno affermando notevolmente, soprattutto dopo la pandemia. Quindi un importante investimento e un'azienda che si rappresenta in questo territorio investendoci anche in chiave multiutility perché non solo energia ma anche ambiente, efficienza energetica e oggi apriamo di fatto un'unità locale dell'azienda di telecomunicazione. Altronde Estra è un'azienda estremamente performante di cui andare orgogliosi e da custodire perché è un patrimonio di questa città condiviso con altre città, altri territori, però Estra è una delle più importanti aziende che valorizza un notevole fatturato, produce ricchezza, ne distribuisce e occupa tantissime persone. Quindi è giusto che si investa in questo territorio e che il territorio investa su Estra.